Leonardo Silva Revisore-Perdinand Io voglio iniziare con questa prima diapositiva che vi dice una cosa molto semplice, cioè che la genetica sta arrivando. Sta arrivando non soltanto per gli addetti ai lavori, in cui è stata confinata per tanti anni, ma sta arrivando per me, per tutti voi e per i nostri figli. E quindi è importante che iniziamo a capire almeno la direzione in cui si sta muovendo. Io, prima di venire qua, l'altra settimana ho fatto un esperimento, semplicemente ho detto vediamo cosa c'è, come ne parlano nei giornali di genetica e dell'ingegneria genetica. Ho trovato ovviamente l'articolo di Stephen Hawking, che è postumo, che dice che tra poco noi saremo soppiantati da una specie umana geneticamente modificata. Ovviamente ho trovato Putin, che ognuno secondo le sue sensibilità aveva paura della creazione di supersoldati, immagino perché rivolga solo lui. Ho cercato un tweet del nostro viceministro, purtroppo non l'ho trovato, però la buona notizia che vi posso dare è che nessuna di queste due cose è molto facile che avvenga. E una in particolare, quella di Putin, anche un po' mi dispiace, devo dirvi la verità, perché io sono un grande fan della fantascienza, e se qualcuno con l'ingegneria genetica riuscisse a crearmi Wonder Woman e Capitano America, io non avrei assolutamente niente da ridire. Però, diciamo così, dell'ingegneria genetica, come vedete, non se ne stanno occupando solo le persone che la studiano, ma per dire se ne occupa l'Economist, dove c'è gente molto intelligente che inizia a capire le implicazioni dell'ingegneria genetica. Perché se io adesso, da ciascuno di voi che non vi conosco, prendessi un po' delle vostre cellule, estraessi il vostro DNA e facessi un'analisi delle sequenze, io già potrei dire un sacco di cose. Potrei dire che altezza avete, più o meno. Potrei dire il colore dei vostri occhi, il colore dei capelli. Potrei dirvi anche cose che neanche voi sapete. Per esempio, potrei dirvi se i vostri enzimi sono più adatti a correre i 100 metri piuttosto che a fare una maratona. E ovviamente, e qua, diciamo così, è la parte importante, potrei dirvi se siete a rischio di sviluppare qualche malattia cardiovascolare, neurodegenerativa, di qualunque tipo. Ora, voi mi direte, va bene, ma chi sarebbe così matto da andare a modificare geneticamente un essere umano. E qua, diciamo così, c'è un po' la brutta notizia. E cioè il fatto che noi, come specie, siamo dei manipolatori. Noi, se domani io mettessi là un cartello con un bottone rosso con sopra scritto assolutamente non schiacciare, una buona percentuale di voi andrebbe lì a schiacciarlo per vedere semplicemente che cosa succede, no? E questo è sempre successo, no? Voi sapete, i bambini sono convinti che le cosce di pollo nascano nella vaschetta del supermercato. Però neanche il pollo nasce, diciamo così, come pollo. Perché quando il nostro antenato neolitico entra in un'area dura, non ha trovato un branco di galline ovaiole e il suo unico problema era come iniziare a fare una frittata. Ma le galline ovaiole vengono da una specie di gallo cedrone. E io vi posso assicurare, non sono un etologo, ma andare da una femmina di gallo cedrone a cercare di togliergli le uova non è un'esperienza piacevole, no? Quindi noi attraverso, non sapevamo ovviamente che cosa fare, dal gallo cedrone abbiamo avuto il pollo. Abbiamo anche modificato i vegetali, cioè noi modifichiamo tutto quello che vediamo in natura, no? 12.000 anni fa l'inca entra in una valle e non trova la pannocchia e di nuovo il suo unico problema è come riesco a fare il popcorn, ma trova quello arbusto, no? Che vedete là sulla sinistra che si chiama teosinte. Poi attraverso varie modificazioni riusciamo ad avere la pannocchia. Allora, diciamo così, noi stessi ci siamo modificati anche in un arco di tempo abbastanza breve. Voi vedete qua, 100.000 anni fa siamo tutti usciti dall'Africa. Chi è andato a sinistra cosa ha trovato? Ha trovato i neandertaliani. E i neandertaliani, diciamo così, oltre a probabilmente averli portati anche, contribuito se non altro alla loro istruzione, ci siamo, diciamo così, accoppiati con i neandertaliani. E gran parte di noi che siamo in questa sala abbiamo circa dall'1 al 5% di DNA di un'altra specie umana, che è l'uomo di neandertal. E adesso, con la genetica, queste cose sono anche facili da scoprire. Guardate, io con meno di 100 dollari ho contattato una compagnia americana e mi sono fatto dire quanto è il mio DNA neandertaliano. Io adesso so che ho 269 varianti tipiche dei neandertal. E una di queste varianti ha a che fare con l'altezza. Quindi è inutile che me la prendo tanto con i miei genitori, se sono solo alto 1,70. Me la sarei dovuta prendere con qualcuno che ho vissuto ben molto tempo fa. Ora, la genetica, da dove parte la genetica, diciamo così? La vera genetica, come voi sapete, qua non voglio farvi venire in mente delle brutti ricordi dei vostri tempi al liceo, parte da Mendel. Questo povero monaco che nasce, diciamo così, studia tutta la sua vita su come si trasmettono i caratteri, muore disperato, muore disperato perché nessuno riconosce il valore della scoperta, nel 1860, in un bellissimo monastero a Berno, che adesso probabilmente la gente solo lo conosce per il MotoGP, lui scopre che i caratteri si possono trasmettere, scopri caratteri recessivi, scopri caratteri dominanti, e lì inizia una enorme corsa. Inizia un'enorme corsa, ci sono dei bellissimi libri a riguardo, dove sostanzialmente, prima di tutto si è andata a cercare la molecola, che si è scoperto del DNA, poi c'è la struttura del DNA di Watson & Crick, di nuovo ci sono bellissimi libri che spiegano questo, ma subito, come vedete, appena sono state fatte queste scoperte, l'essere umano ha cercato qualche maniera di sfruttarle. e quindi all'inizio degli anni 70-80 abbiamo lo sviluppo delle prime piante trasgeniche, abbiamo la clonazione con la pecora dolly, che voi sapete adesso la clonazione umana è proibita, però questo non vuol dire che lo sarà in futuro, è proibita solo da noi, e queste sono cose che, diciamo così, devono iniziare a destare qualche preoccupazione. dopo, diciamo così, l'altra data estremamente importante per quello che riguarda l'ingegneria genetica nel 2001. Nel 2001 Craig Venter pubblica l'intera sequenza nucleotide per nucleotide del nostro genoma. Ora, questa è stata una cosa che, fatta la prima volta, è costata diversi milioni di dollari, diversi anni di ricerca. Adesso il vostro intero DNA di ciascuno di voi si può sequenziare per un costo di circa 1000 dollari in tre mesi. e tutte quelle informazioni che io vi ho fatto vedere all'inizio, che sono portate nel vostro codice genetico, adesso, in teoria, sono libere di essere sfruttate. E guardate che negli Stati Uniti lo stanno già facendo, tra poco arriva anche da noi. ci sono delle compagnie che si rivolgono alle persone che si vogliono sposare. Dire, va bene, ok, voi avete già deciso chi porta fuori a spasso il cane, chi porta la spazzatura, chi mette le catene alla macchina quando nevica, vi piacete. Però, perché non date anche un attimo un'occhiata al genoma del vostro partner? E guardate che questo può essere un problema. Io avevo sempre difficoltà a trovare ragazze, mi mancava solo che mentre mi dicevano sì, tu mi piaci, però adesso sputo in questa provetta e tra tre settimane ti dico se va bene. Ma questo è il futuro che stiamo andando incontro. che ci piaccia o non ci piaccia. E ovviamente, per certi versi, guardate, vi dico, ci deve piacere molto. Perché l'ingegneria genetica ha risolto un sacco di malattie terribili. E la maniera che l'ha fatto è stata in una maniera concettualmente molto semplice. cioè uno prende la cellula con il gene malato dalla persona, con un virus gli mette dentro una copia del gene sano, riprende questa cellula, la rimette in questa persona e la persona è guarita. e questo approccio è stato fantasticamente di successo. Perché adesso, quello che voi vedete qua, e non entro assolutamente nel dettaglio, ci sono decine di trattamenti in Europa che si basano su questo genere di tecniche e che possono guarire soprattutto bambini di malattie veramente terribili. Quindi, non tutto è male, diciamo così, nella ricerca genetica. Però c'è un aspetto, che adesso vi dirò, che inserisce anche una piccola preoccupazione. E cioè, questo genere di manipolazioni sono manipolazioni grossolane. Nel senso che, chiunque ha un addetto ai lavori, se manipola il DNA in questo genere di procedure, gli altri lo riescono a vedere. È un po' come se alla vostra macchina si rompe un faro. Voi andate dal ricambista, comprate un altro faro e pam! glielo saldate sul cofano. Per l'amor di Dio, la vostra macchina funziona ben uguale la notte. Ma chiunque, specialmente il vigilo urbano, vede e dice, ma qua, no? Qualcuno ha manipolato. Quello che succede adesso è che si stanno sviluppando delle tecniche per cui non esiste maniera di capire se un gene è stato manipolato o meno. Vi farò vedere. Sono tecniche molto complesse e sono anche tecniche che in teoria saranno molto utili perché dal punto di vista terapeutico quello che si fa adesso, che si tenderà a fare adesso, è prendere la cellula con il gene malato. Non mettergli un gene sano, ma riparare quel gene malato. E oltretutto, adesso ci sono anche tecniche per cui uno può riparare il gene malato, può trasformare la cellula in una cellula che gli serve, non so, un neurone, una cellula del fegato, una cellula del rene, e rimpiantarla nel paziente e quindi raggiungere efficienze terapeutiche che prima semplicemente non erano possibili. Però c'è un problema, no? Di fronte a questo grande vantaggio ovviamente chiunque nel futuro abbia intenzione di cambiare il DNA può farlo senza lasciare traccia. e questo, diciamo così, che avverrà fra non pochi anni, rappresenta, a mio avviso, un poco come quando è stata scoperta l'energia atomica, no? Quando è stata scoperta l'energia atomica e subito è stata fatta la bomba nucleare, a nessuno sano di mente gli sarebbe venuto da dire e beh, ma questa è una cosa molto complicata, lasciamola solo gestire ai fisici e ai militari. Perché? No, le implicazioni dell'energia atomica non riguardano solo i fisici e i militari, ma riguardano tutti noi, il futuro di tutti i nostri figli. E quindi queste tecniche di manipolazione genetica che si stanno sviluppando sempre di più adesso hanno bisogno che ognuno di voi se ne faccia un minimo di carico, che parli con i politici, che parli con quelli che devono decidere che cosa è ammesso o meno e che soprattutto facciano in modo che tutte queste tecniche non vengano utilizzate per degli scopi, diciamo così, impropri. Perché io vi voglio ricordare una cosa, io lavoro nell'ambito delle Nazioni Unite, sapete, là si fanno tante riunioni, si cercano di risolvere tanti problemi, ma la prima lezione che ti dicono quando tu decidi di lavorare per questo genere di organizzazione e ti dicono, caro mio, mi raccomando, cerca sempre di essere seduto al tavolo in cui si mangia, perché altrimenti vuol dire che farai parte del menù. Grazie. Grazie.